Ricordate quando dimenticate di avere un rifrattore di diametro di diametro di diametro? Un po' di anni fa, un telescopio di diametro di diametro di diametro di diametro di diametro era rappresentato come un'auto compatta. Ma negli ultimi anni, tutto ha cambiato. Qui c'è l'Evostar 150ED, il telescopio di diametro di diametro di diametro di diametro. Questo Evoostar 150ED è un rifrattore di diametro 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 di diametro. Questo è un telescopio meraviglioso per osservare obiettivi nel universo, ma anche per l'astrofotografia, perché potrebbe essere un grande strumento per la immaginazione di immagini di diametro di diametro e di Mone e la fotografia di fotografia di obiettivi compagni come le galassie o le nebule planetari. Come potete vedere, questo non è proprio un telescopio compagno, ma il peso è 9.5 kg, quindi non è troppo facile. E potete anche usare il modello di diametro di un'EQ6. Abbiamo preparato questo telescopio con i nostri supporti di diametro 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 di diametro. In questo modo, grazie al nostro sistema Plus, potete facilmente installare in parallelo un telescopio guida, ma anche l'Eagle. E abbiamo anche il nostro SestoSensu 2 robotico connesso al focuser. In questa modo, potete precisamente controllare il focuser senza l'edito di toccare. E potete controllarlo dal computer o dal SestoSensu virtual handpad nel vostro smartphone. Un ottimo telescopio, non è? Credo che oggi sarò molto preoccupato e fare un'astrofotografia grande!